Quasi mille interventi in più rispetto al 2018, con un aumento di volontari e di persone in difficoltà. È stato illustrato questa mattina il report Povertà e risorse della Caritas Diocesana. L'iniziativa è avvenuta in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, intitolata Tendi la tua mano al povero, che verrà celebrata domenica prossima. A presentare i dati, il Vescovo Armando Trasarti, il direttore della Caritas Diocesana, Angiolo Farneti, insieme a Stefania Poeta e Michela Pagnini. Purtroppo, ha spiegato Farneti, quest'anno non sarà possibile proporre momenti di incontro e di solidarietà a causa della pandemia, ma abbiamo predisposto suggerimenti e materiali come questo documento per favorire la riflessione personale e comunitaria. In base al quadro riferito allo scorso anno, sono 889 le persone che hanno chiesto aiuto, il 15% in più rispetto a due anni fa, quindi un aumento di 137 persone e famiglie che sono tornate fino a 3.720 volte, una media di circa 4 passaggi ciascuna. Per alcuni si è trattato di un incontro occasionale, per altri è iniziato un percorso. Quasi la metà sono cittadini italiani, mentre il 55% sono uomini singoli o capi famiglia. Tutti pronti ad essere accolti dai 46 volontari, giovani in servizio civile, coordinati e affiancati dagli operatori. In aumento di conseguenza anche le ore di volontariato, oltre 5.000. Gli interventi registrati per un totale di circa 5.800 hanno pesato, sull'intero bilancio, per 326.600 euro. Un'attenzione inoltre è rivolta al Centro Salute, che sta diventando un servizio indispensabile per chi ha problemi economici e chi è totalmente escluso dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2019 sono state 54 le persone aiutate, 39 in più rispetto all'anno precedente. Durante la conferenza stampa, avvenuta online, il Vescovo si è collegato per un breve saluto iniziale. Il report, ha sottolineato Trasarti, non è ostentazione di quello che si fa, ma è il tentativo di leggere il territorio, al fine di aiutare la Chiesa e il mondo civile a creare sinergie per offrire servizi. Bisogna parlare della carità con umiltà. Farnetti invece ha ringraziato per il supporto tutti coloro che nel silenzio e con sacrificio continuano a lavorare in Caritas e chi, con lotto per mille, con offerte ed erogazioni liberali o con un contributo economico legato ai progetti, ha permesso di sostenere chi più ne ha bisogno.